Priscilla Asmr Ciao a tutti 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 Come state? Io spero che vada tutto 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 bene Questo è un video asmr dove andrò a tagliare tutti 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 i tuoi pensieri negativi che ti sta invadendo la mente in questo periodo così difficile non ti preoccupare oggi ci penso io a te a te a te 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 ho deciso di utilizzare una forbice grande perché ho sentito dire che sono davvero tanti e molto 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 potenti i pensieri che stai avendo quindi andremo ad utilizzare questa forbicione non ti preoccupare è totalmente indolore a livello fisico ma da tanti 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 benefici a livello mentale quindi adesso tu devi aiutarmi a catturare questi pensieri brutti che stai avendo quindi chiudi per favore gli occhi così molto bene e cominciamo dal primo pensiero brutto che ti viene in mente in questo periodo pensalo intensamente in tutte le sue forme uno alla volta partiamo dal primo non mischiare i pensieri uno solo uno solo cos'è? ok 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 cosa ti fa provare? ok con quanta intensità e quanto frequentemente? ok adesso io lo prendo stai tranquillo lo dirò a me 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 adesso lo taglio e scomparirà dalla tua mente sei pronto? vado? vado? Come? Lo senti sempre bene, vero? Molto bene. Andiamo avanti con il nostro procedimento. Ora pensa al secondo pensiero brutto che ti viene in mente in questi giorni. Uno alla volta, ora siamo al secondo, il primo non c'è più. Guardalo bene. Cos'è? Ok. Come ti fa sentire? Ok. Sei pronto? Lo prendo. Tiro, 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 tiro a me. Qui servono due forbiciate. Pronto? Serviva anche la terza. Ok. Ok. Andiamo avanti, non temere. Siamo insieme. Non sei solo in questo momento. Terzo pensiero. Pensalo. Intensamente. Che cos'è? Quante volte ti capita di pensarlo? Un po' troppe, non trovi? Pensi sia costruttivo? No. Ok, non ti preoccupare. Lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo, lo prendo. tiro, tiro, tiro tiro, tiro, tiro tiro, tiro, tiro molto bene adesso l'ultimo pensiero abbiamo cercato di raggruppare dei pensieri più comuni e più distruttivi ok? l'ultimo pensaci intensamente perché questo è l'ultimo quindi trova quello che secondo te dovrebbe rientrare in questa classifica ok? da 1 a 10 quanto ti fa male questo pensiero? beh, è un numero molto alto ho capito ok? d'accordo? tranquillo prendiamo questo pensiero grande, grande lo tiro, lo tiro, lo tiro lo tiro, lo tiro, lo tiro lo tiro, lo tiro lo tiro stop non c'è più alcun legame fra te e questi pensieri sei libero attenzione però non vuol dire che questi pensieri non possano riformarsi sotto un'altra forma ma sono sicura che tu riuscirai a riconoscerli e se non li riuscirai a tenere lontani riuscirai comunque a controllarli e a non fargli invadere il tuo spazio vitale e la tua salute psicologica che è tanto importante quanto lo è quella fisica vanno anche molto a braccetto quindi non te ne dimenticare di questo ma ho piena fiducia in te e sono stra sicura che da questo momento in poi ci farai un po' più attenzione bene spero di averti aiutato tu lo sai che ti voglio tanto bene e che sono qui ogni qual volta tu avrai bisogno mi troverai qui ti auguro una buona notte ciao 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 ciao